BALCONI TIV SCHIO BALCONI TIV SCHIO A terra abbandonata, fuori dalla porta, i lacci sporcati come margherite al primo piede. Non lucicano più. La sua verità scivola negli occhi. E scende lentamente senza far rumore. Un brazzo in pieno viso sembra una spina su un corpo di rose. Tutto quanto dentro il mio respiro. Lavo via il suo nome per l'ultima volta e ritorno bambina. Come quando non volevo crescere. Un brazzo in pieno viso. è una cosa molto da cantautore, io spesso sono seduta al piano, quindi è una bella occasione per me anche per questo motivo e qui alla mia destra c'è Valentina Cacco che è la violoncellista con cui suono da ormai più di tre anni e è una spalla importantissima per questo progetto. Un'ultima domanda, cosa ispira la tua musica? Tutto quello che mi circonda, le persone che vedo, che incontro, le emozioni che mi passano attraverso da quelle più piene, da quelle più rattristanti, brutte, terribili, non tutto quello che in qualche modo esce dalla mia quotidianità e mi spinge a cercare qualcosa di me dentro. Io lo butto giù sperando in qualche modo che chi ascolta possa esserne colpito, affascinato anche in modo positivo, insomma, che possa essere, come è per me, una gioia e un dono scrivere e ascoltare musica. Ok, grazie Irene, grazie per averci seguito su Balconi TV Schio e alla prossima! Grazie a tutti!